La Mercanti ha a cuore la piena soddisfazione del cliente, la scelta dei migliori fornitore, l'attenzione ai tempi di fornitura e lo stretto contatto con il cliente durante e anche dopo la fornitura stessa danno ancora più quel valore alla nostra proposta. E quello che siamo viene testimoniato dai nostri clienti e ne leggo alcune referenze, tipo la Unipol, gruppo finanziario, nella persona del signor Robalsamo, dice abbiamo trovato nella Mercanti il supporto di un fornitore competente, efficace ed efficiente, proattivo, propositivo e attento ai dettagli e sempre disponibile. Poi ancora Equitalia Pragma S.p.a. dice vogliamo testimoniare la disponibilità, la competenza, la professionalità con cui siamo stati costantemente eseguiti. E ancora sempre il direttore dell'Equitalia dice nel rispetto dei tempi e delle necessità richieste ci riteniamo pienamente soddisfatti del lavoro svolto. Poi ancora un aspetto che viene puntualizzato dai nostri clienti e in particolare dall'architetto Cioretti è il rapporto umano che appunto dice è importante sottolineare che il valore aggiunto alla base di questa azienda è il rapporto umano, ci sono persone che ti seguono da vicino costantemente fino ad offrire una consulenza, un servizio che rispecchiano e a volte superano le necessità. È sempre una garanzia di successo lavorare con la Mercanti, oltre che un'ottima occasione di costruttivo confronto. È un piacere lavorare con la Mercanti, complimenti. Poi ancora l'architetto di concetto del Comune di San Benedetto del Tronto sono contento perché con la Mercanti ho avuto l'impressione di mettere il pilota automatico. L'affidabilità e la competenza della Mercanti hanno costituito e costituiscono una costante risposta alle nostre esigenze. Altra referenza quella dell'architetto Bollettini dello studio Archimedia abbiamo conosciuto la Mercanti nel 2001, da allora è nata una collaborazione fondata sulla piena fiducia professionale. Scrive ancora il direttore generale della Relais Gourmet La loro disponibilità e preparazione ci hanno permesso di poter percorrere tutte le fasi di ideazione e realizzazione e messa a punto in modo molto sereno e costruttivo. Poi ancora la Publi Sport SRL di San Benedetto Anche quando le scadenze sembravano impossibili siamo stati sempre e siamo riusciti a trovare con loro una soluzione brillante nei tempi e nei budget. Poi puntualizzare anche il discorso del servizio perché per noi il servizio è un'ossessione siamo ossessionati dal servizio e l'Azzurra 2000 nella persona del signor Simonetti dice Avevo delle esigenze precise e loro mi hanno ascoltato attentamente mi hanno dato utili consigli su come ottimizzare gli spazi abbiamo scelto insieme a loro l'arredo e la cosa bella è che non ti abbandonano mai ti fidi di loro perché ti fanno sentire sempre al sicuro bravi e infine la Sabelli ci giudica così il servizio la Mercanti da 10 e lode